E bufera sulla direttrice del penitenziario di Lanciano. Maria Lucia avvantaggiato, alla guida del supercarcere di Villa Stanazzo da sei anni, è accusata di truffa e peculato. L'indagine è scaturita da alcune denunce partite dall'interno del penitenziario riguardo fatti che sarebbero accaduti tra marzo e ottobre 2020. Presenze o assenze annotate a piacimento, sostiene l'accusa descrivendo il reato di truffa contro la pubblica amministrazione. L'avvantaggiato infatti avrebbe gestito i cartellini in modo da usufruire di ore lavorative non svolte. La donna inoltre, originaria di Lecce e residente a Pescara, avrebbe segnato come straordinari le ore di smart working durante il lockdown primaverile. E poi contestato il reato di peculato. La direttrice avrebbe rubato 500 euro dal fondo dei detenuti e la somma sarebbe stata poi rimessa sul conto diversi mesi dopo. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di arresto avanzata dalla procura ma ha sospeso l'avvantaggiato dalle sue funzioni per un anno. L'udienza si è tenuta il 7 gennaio. Solo tre giorni prima, il 4 di gennaio, la direttrice era stata trasferita all'ufficio formazione del DAP di Roma. Sono innocente, ha dichiarato l'indagata tramite i suoi legali, i quali hanno presentato il ricorso in Cassazione contro la sospensione di 12 mesi. Questo è il secondo caso, in 13 anni, che scuote la direzione del supercarcere di Lanciano. L'ex direttore Bruno Medugno era stato arrestato nel 2004 e condannato a 5 anni e 6 mesi in primo grado e poi assolto in appello. Medugno era accusato di peculato, abuso, truffa, falso, frode nelle pubbliche forniture elettriche e perfino gioco d'azzardo in carcere con slot machine. A seguito di questa seconda inchiesta giudiziaria, la direzione del penitenziario è stata assunta dal direttore del carcere di Chieti, Franco Pettinelli. Pettinelli è conosciuto per aver avviato, un anno fa, in collaborazione con il garante dei detenuti e l'Università d'Annunzio, un'inquietante sperimentazione lombrosiana sui detenuti teatini, che si prefiggeva di dimostrare la correlazione tra aggressività e caratteristiche fisiche. Pettinelli assume ora anche la direzione del carcere di Lanciano, in un momento a dir poco delicato. Dietro le sbarre di Villa Stanazzo è scoppiato un focolaio Covid, tra i più allarmanti riguardo quelli nei penitenziari italiani. L'8 gennaio i contagiati nel carcere di Lanciano erano 29, per un tasso di positività di oltre il 12%. A febbraio dello scorso anno era scoppiata una rivolta nella sezione dei comuni, poi repressa con la forza dalla polizia penitenziaria dopo otto ore di trattative e minacce. Secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone, nel 2018 erano 249 gli individui trattenuti nel penitenziario lancianese a fronte di una capienza di 244 detenuti.